Buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori di FanoTV, oggi è il 9 di marzo e questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali di FanoTV. Subito il santo del giorno, cominciamo dal santo di oggi, oggi è Santa Francesca Romana, parliamo di una santa vissuta tra il 1384 e il 1440, una santa sposata con tanti figli che però a un certo punto desiderava dentro di sé imitare i santi, a un certo punto quindi a Roma inizia a preparare cibi per i mendicanti, per gli ammalati nei vari ospedali, preparava cibi, appunto si recava quotidianamente a prestare le cure agli infermi eccetera eccetera, insomma una santa che dopo la morte del marito si unì alle oblate che fondò e trascorse con loro gli ultimi anni della sua vita. Il sole è sorto alle 6.29, il sole è sorto alle 6.29, tramonta alle 18 e 07. Il cielo adesso invece, andiamo a vedere il cielo che ci oggi darà un po' di pioggia, anzi parecchia pioggia, pioggia e neve invece nell'entroterra, avremo infatti precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio di temporale, più abbondanti nel settore centro-settentrionale della regione, il limite delle nevicate sarà attorno agli 800-900 metri, le temperature sono in diminuzione, il mare sarà molto mosso domani, giovedì 10 di marzo, avremo ancora il cielo nuvoloso coperto, qualche schiarita soltanto in serata al sud, le precipitazioni saranno sparse anche a carattere di rovescio, più insistenti nelle zone interne, ancora nevicate al di sopra dei 900 metri, migliore il tempo nel fine settimana, venerdì 11, ecco la previsione con possibilità di deboli fenomeni residui, specie nelle zone interne, in esaurimento nel pomeriggio, le temperature sono stazionarie, graduale miglioramento del tempo sulle marche nel fine settimana, anche se con ancora la possibilità di qualche fenomeno residuo nella giornata di sabato. Allora andiamo a leggere i giornali, cominciamo dal resto del carino questa mattina che dedica a due pagine, pensate ad un articolo interessante comunque tra l'altro, perché guardate le fotografie, già potete immaginare e capire da soli di cosa si parla, si parla del cemitero degli animali che si trova a Candelara, l'oesi del tramonto, gli animali riposano in pace e i padroni non li dimenticano. Ci sono edicole, lapidi, tombe con i giocattoli e guardate qui c'è per esempio un cane, ecco la foto di un cane, un bel cane il nome Max e qui addirittura due conigli, qualcuno ha pensato di seppellire due conigli, evidentemente a questi due conigli erano molto affezionati, quindi hanno pensato di seppellirli in questa collina che si trova appunto, è aperta dal 2004, tra l'altro l'oasi del tramonto a Candelara e c'è anche l'altra pagina ma noi ci limitiamo a questa. Su quella di Fano invece, sempre del Carlino, la cronaca con la tragedia che si è consumata ieri a Fenile, ieri intorno alle 17.30, un padre è stato trovato, un giovane padre è stato trovato morto in bagno, l'uomo di 42 anni sarà sottoposto ad autopsia, scrive il Carlino, l'uomo che lavorava, era un militare in servizio all'aeronautica di Rimini, si chiamava Francesco Paterna. Centropagine invece, teatro romano, ora ripulitelo, lo intima la soprintendenza, dentro ci sono anche degli animali morti, vedete ve l'ho cerchiata con la, lo facciamo con il rosso, ecco c'è un gatto morto per esempio. Ora ripulite questo teatro, lo Stato è pronto ad assumersi i costi e rivalersi sulla proprietà. A Sant'Orso i bimbi disegnano il quartiere, sono stati attivati i laboratori a scuola, tecnici comunali tradurranno i desiderata, avviata la fase progettuale, il sindaco dice che le risorse sono già a bilancio, una quarantina di piccoli urbanisti daranno indicazioni su quali opere realizzare e come fare la mobilità e gli impianti. Poi l'altra pagina invece è in ricordo a Mondavio di una runner che è scomparsa un anno fa, Mariella, la solidarietà val bene una sfacchinata, così il cuore di Mariella torna a battere, domenica ci sarà una corsa ricordando appunto Mariella Micci, scomparsa un anno fa e ricavato della Kermesse, sosterrà il centro L'Aquilone per diversamente abili. E poi la processionaria invece le processionarie divorano i boschi, l'allarme del corpo forestale, il clima è troppo mite, è dunque un clima mite che le ha fatte moltiplicare. Dunque c'è questa infestazione record di processionari a danno del pino che è in corso nei boschi e nelle alberature della provincia di Pesaro e Urbino. Poi la storia invece è il racconto di una disavventura per un gruppo di scout, gli scout di Fano 2, che domenica tra mattina e pomeriggio erano sulle Cesane, il tempo non è stato un granché, le previsioni l'avevano messa la pioggia, però insomma pioggia e grandine alle Cesane, scout sotto la grandine, la polemica scatta con la titolare della Baita che pare, così come si lamenta una mamma, si è lamentata una mamma su Facebook, abbia lasciato fuori questo gruppo di lupetti, di scout, tra cui anche questi bambini tra gli 8 e gli 11 anni. Erano 50, dice lei non ci stavano, io non ho cacciato nessuno, dice la titolare della Baita, semplicemente è successo che domenica avevo il locale pieno, c'era perfino gente che mangiava in piedi al banco del bar e quindi era per me impossibile farli entrare. Andiamo a leggere adesso il Corriere Adriatico, la pagina di Fano, eccola qui, una sintesi condivisa o si cambia strada, out-out del Sindaco Seri, no al sito di Fosso Signore e di Muraglia per la costruzione del nuovo ospedale, l'alternativa è rinunciare all'ospedale unico, si cerca un'altra soluzione, dopo lo sgambetto della regione voglio incontrare cittadini e operatori. Violenze nel derby invece con la Vispesaro, 10 tifosi del Fano patteggiano, pena complessiva di 80 mesi di reclusione per i disordini, del 23 marzo del 2014, restarono feriti 11 agenti di polizia. Appaltate invece opere per 14 milioni, offerte da aziende di tutta Italia, l'assessore Fanesi, relazione in commissione, il comune tra i più attivi. L'altra pagina, Asur, parliamo di mense scolastiche, di cibo che si mangia a scuola. Asur, menù completo e soddisfacente, agli addetti ai controlli non risultano i disagi che sono stati invece segnalati dai genitori. Lavoreremo sul gusto. Le rinunce al servizio della messa scolastica sono diminuite dopo il nuovo appalto, segno dunque di gradimento. Mascarin, l'assessore si dice sorpreso, per i comitati va tutto bene, pagano 150 euro al mese, solo quelli dell'ultima delle 19 fasce, un 10% ha il pasto gratuitamente. La pista, l'ex pista fatiscente di pattinaggio di Cartoceto, a Cartoceto, potrà diventare un campo di calcio a 5 e di pallavolo, così ha annunciato la giunta comunale che ha già deliberato il progetto esecutivo molto interessante. Sull'ex pista ormai fatiscente saranno realizzati due campi per un investimento di 52 mila euro. Mentre da Senigallia si dibatte ancora sugli stemmi papali, c'è chi li vuol togliere dalla piazza che si sta ristrutturando. La petizione però non va in giunta, gli amministratori affrontano i nodi di Piazza Garibaldi, ma danno la priorità a sosta e collegamenti. La pagina di Pesaro invece è per la Capalbo, direttore dell'azienda, ospedali riuniti in Marche Nord, per Romina Pergolesi che è consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. La nomina con l'incarico alla Montefeltro Salute è incompatibile e quello del marito quale medico competente. La consigliera Pergolesi chiede a Ceriscioli i provvedimenti per i fatti da lei ricostruiti. Poi invece a Urbino è caccia grossa, caccia grossa ad una banda di quattro ladri, la gang fallisce il colpo a Mondobici, Mondobici che poveretti sono tartassati, ormai veramente non passa giorno che ci sia qualcuno che tenti di entrare dentro e rubare le biciclette. Comunque la gang fallisce, ruba un furgone e una vettura, svaliggia due negozi e un ristorante. I carabinieri intercettano due volte i loro mezzi, ma i malviventi sono riusciti a fuggire nelle campagne. Il PD invece da Fossombrone, parliamo di politica, Fossombrone sapete si vota così come in altri 3-4 centri della provincia di Peso Urbino, Fossombrone sceglie il candidato sindaco, è l'attuale vice ovvero Michele Chiarabilli, il segretario del PD Gostoli ha ufficializzato l'opzione, il vice di Pelagaggia, Pelaggia è il sindaco attuale di Fossombrone, il vice ha 40 anni e una carriera decennale di assessore in comune e in comunità montana. Per il partito forsempronese è l'uomo che può vincere le elezioni e rinnovare il governo cittadino. Apriamo adesso per chiudere la rassegna il messaggero. La pagina principale è sul giorno del referendum, referendum day. Le consultazioni sulle trivelle e le fusioni tra i comuni saranno il 17 aprile, si mobilitano le amministrazioni di Peso e Monbaroccio e di Urbino e Tavoleto. Sulle trivelle adesso non mi soffermo, ve l'abbiamo già detto più volte, è per impedire che le compagnie petrolifere tornino in Adriatico o continuino in Adriatico a trivellare il sottosuolo. Quindi votare sì, votare no perché queste compagnie continuino a perforare l'Adriatico. Poi invece il resto, l'altro referendum è sulla fusione di Peso e Monbaroccio e Urbino e Tavoleto. Poi i dubbi del Partito Democratico sul sito di Chiaruccia dove costruire l'ospedale unico. La localizzazione dell'ospedale alimenta il dibattito interno al Partito Democratico. Le altre pagine andiamo a vederle subito. Allora, personale delle province, la mediazione, chi è necessario al territorio resterà a lavorare lì dove si trova. Ceriscioli va incontro alla richiesta dell'assessore Cesetti, l'impiego dei 550 dipendenti finisce in una delibera. Poi l'hotel Principe a Pesaro. Il comune dice non sapevamo nulla delle irregolarità emerse. L'assessore Mengucci due giorni e sposteremo tutti. La struttura verrà chiusa ma il gestore nega ogni addebito. Poi sul centro Matteo Ricci continua il suo tour nei quartieri. La rivoluzione parte dai tagli alle auto. 30 stalli verranno eliminati tra Piazzale Olivieri e Il Corso, ma si pensa ad un parcheggio dentro il San Benedetto. Per quanto riguarda invece l'ospedale unico, ancora nella faida Pesaro-Fano è Marche Sud, sì, avete capito bene, non Marche Nord, Marche Sud a fare il terzo incomodo. Celani di Forza Italia. La provincia di Ascoli è pronta ad una sola struttura e a diventare la priorità regionale. L'ultima pagina del messaggero è quella di Fano. La vediamo subito. Eccola qua. Per l'ambito si volta pagina. La crisi va verso la chiusura. Alle battute finali il lavoro portato avanti dal coordinatore protempore Mandolini. Lunedì il Consiglio Comunale di Fano dovrà votare la liquidazione di fatture per 600 mila euro. L'assessore Barnesi dice ha adempiuto al compito che gli è stato affidato. Ora concentriamoci sul suo successore. Domani infatti scade il bando. Poi come abbiamo detto i tafferugli al derby Fano-Vispesero dieci mesi a testa agli otto ultra. Patteggiano gli imputati accusati di resistenza, lesioni, minacce e violenza. Mentre qua vedete il dono per il decennale del club Seroptomist. È stata inaugurata la statua a Sassonia. Una statua che ha il titolo Viva la vita. realizzata da Marisa Lambertini. È tutto. Grazie per aver seguito Occhio ai giornali. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.